È ufficiale, le discoteche riaprono ma con una capienza massima al 35%. Sarà necessario il Green Pass e le mascherine, quest'ultime però si potranno abbassare una volta in pista perché il ballo è considerato come un'attività fisica o sportiva al chiuso. La notizia è stata accolta positivamente da Stefano Lanini, titolare del River Piper di Castel San Nicolò e presidente del SILB Arezzo. Abbiamo accolto in maniera positiva la riapertura delle discoteche data dal CTS anche se con capienza limitata al 35% che ovviamente è bassa, ci sembra bassa ma cercheremo di fargliela inalzare. Van bene il Green Pass, van bene le mascherine e spero che il parere positivo del CTS sia finalmente accolto dal governo in maniera positiva.